Ehi, continuate ad esercitarvi. Solo così migliorerete. Vogliamo darti una mano! E lo apprezzo, davvero. Voi tornate all'avamposto. State attenti e al sicuro. Mentre io requisisco quel P-32 armadillo e faccio esplodere l'astronave Zurich. Allora questo sarebbe un addio? Affermativo. Addio. Scusa, io dimenticavo il gatto. Rilevo forme di vita. Di che genere? Giganteschi organismi insettori. Questo posto sembra una sorta di alveare. Sono pericolosi. Sembra siano andati in ibernazione. Fantastico. Oh, guarda! È l'XL-01. Ne è passato di tempo da... Wow! Che hai visto? Andiamo. Ora vedrai. Finalmente. Scusa il disturbo. Non volevamo rovinarti questo bel momento. Tu invece fate qui. È pericoloso. Hai le chiavi del nostro mezzo? Oh, eccole qua. Andiamo, andiamo. Ci sto provando. Fatto. Il portello! Non hai detto portello che avevo già capito. Beh, sarò sincero. Vorrei non fosse mai successo. E lo dice a noi? Prendete tutti un'altra. Vorrei tanto, ma il regolamento dice... Quale ufficiale del comando stellare ti autorizzo io? Usciremo coi fuochi d'artificio. Cominci a piacere. La percentuale di sopravvivenza in uno scopro frontale è 38,2. Hmm, bassina. Usiamo l'invisibilità? Come conosci l'invisibilità? La nonna e io ci giocavamo sempre. Era come nascondino, ma più speciale. Ok, brava. È un'ottima idea. In questo modo li disorienterò. Oh, se ti piace la mia idea, diventiamo tutti invisibili. Sì, e filiamo via. Vorreste usare la tuta da Space Ranger? Su questa c'è già il mio cognome. Ok. Ripassiamo. Io andrò... Di là. E voi andrete... Di là. Ok, ottimo. Guardate, sono Fetter... Fettering? Oh, guarda, una penna. Forte, voi ce l'avete la penna. Ok, ascoltate. Diventare invisibile è semplice. Due cose importanti. Si preme il pulsante. Questo pulsante? Mi dirò io quale pulsante. L'altro pulsante è... Scusa, ma non c'è tempo per spiegare tutti i pulsanti. Ok, basta pulsanti. E questa che serve? No, 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 no. Quella è la leva della resa. Non devi mai tirarla. Non c'è peggior disonore per uno Space Ranger. Chiedo scusa. Quale sarebbe il pulsante da prendere? Questo pulsante. Non ora. Una volta premuto, voi correte verso l'uscita. E io farò esplodere l'astronave Zurg. Pronti? Pronti! No, aspetta, non è vero. Un secondo... Ok, presi. It's like a figura. Ok, di nuovo a teo. Ok, lasagnava. Grazie a tutti. Grazie a tutti.